L'India è un paese in forte crescita demografica, ci sono molti giovani e giovanissimi e c'è l'obbligo di educazione scolastica dai 6 ai 14 anni, gratuita chiaramente, purtroppo non tutti i ragazzi riescono a cogliere le opportunità e molti bambini finiscono per la strada, però d'altronde ci sono anche molte opportunità, sia economiche che culturali. Tra le cose che colpiscono di più un occidentale quando si trova in delle strade di qualche città indiana, soprattutto nelle più grandi, ci sono sicuramente gli odori che provengono dalle bancarelle di venditori che vendono il cibo a persone che devono andare al lavoro, oppure proprio in luoghi in cui il cibo viene macellato. Quindi queste sono le sensazioni sensoriali più forti che provengono da questo tipo di esperienza. Quando ti diranno che dovrai passare le prossime 21 ore stipate ogni un treno notte, non penso che sarai pronto ad affrontare queste eventualità. 21 ore sono molto lunghe, le cose da trovare per riuscire a occupare il tempo non sono tante. Eppure è proprio lì che inizia il bello dell'esperienza. Sono finito a parlare con un sacco di persone, il treno viaggia con le porte aperte per tutte le città e persino i cuochi ti fanno fare un viaggio nella loro cucina e ti permettono di preparare quello che poi serviranno i passeggeri. Questa foto fa riferimento a tutte le bambine che vengono abbandonate in quanto donne e anche a tutti i problemi e le difficoltà che devono riscontrare le donne in India tutti i giorni. È nata un'associazione che si chiama New Light, che si occupa proprio di aiutare le donne sia nell'occuparsi dei loro bambini quando loro devono lavorare, appunto dando un'educazione ai bambini, fornendo un'assistenza sanitaria minima. Ho scelto questa foto perché mi colpiscono molto gli sguardi e la profondità degli sguardi soprattutto e trovo che in India le foto che vengono scattate abbiano questa presenza di sguardi molto forte, molto potente che trasmette una sacralità anche allo sguardo. Ho visto tutte le foto della mostra e sono tutte molto belle, mi hanno colpito molto i colori perché in ogni foto c'è almeno un colore molto acceso che accende anche la foto. In particolare mi ha colpito questa foto soprattutto perché mi ricorda un quadro di Van Gogh i mangiatori di patate.